Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a lei, mister buongiorno, siamo alla vigilia di Genoa Atalanta, una gara che chiude questo primo ciclo molto difficile per lei, affrontate una società che è stata indicata come modello anche dalla nuova proprietà americana del Genoa, di sviluppo anche per il futuro, è un allenatore che qui ha fatto molto bene quando è stato a Genova, con quale spirito domani andrete in campo con tutte le difficoltà che ci sono state da quando l'hai arrivato? Grazie. Il spirito sempre deve essere giusto per dare una battaglia, giustamente giochiamo contro una delle squadre più forti, con una società che soprattutto negli ultimi anni ha fatto benissimo, una società solida, un club che sta facendo molto bene, è un grande allenatore. Grazie. Ecco mister, l'ultima partita con la Lazio, siete partiti molto bene, un primo tempo fino al gol, un Genoa che forse si era visto pochissimo finora, poi cosa è scattato secondo lei nella testa dei giocatori dopo aver subito il gol? Ma io ho detto dopo la partita che appena un po' di difficoltà io ho visto che la squadra si è perso un po' la fiducia, perché la partita comunque abbiamo cominciato bene, è stata controllata da noi, però appena un po' di difficoltà abbiamo sbagliato e subito la squadra ha perso un po' di fiducia. Ecco mister, sulla carta ovviamente è una gara che vi vede sfavoriti, forse è l'ultima di questo ciclo terribile che l'ha accolta sulla panchina del Genoa, però è l'ultima dell'anno, l'ultima del Girono è d'andata, c'è anche il Natale che ovviamente immagino sia uno stimolo in più per fare un regalo ai Genoani, cosa chiederai sui giocatori, cosa dirà prima di scendere in campo, che atteggiamento, che spirito vuole? No, l'atteggiamento è vincere ogni duello in campo, noi dobbiamo cominciare da questo, noi dobbiamo vincere piccoli duelli in campo, cercare di dare massimo e da questo si costruisce il nostro futuro. La classifica in questo momento, io penso che comunque per noi, io lo vedo che non è così male perché siamo tutti attaccati, dopo sosta si comincia il girone di ritorno, noi dobbiamo essere pronti, però dobbiamo cercare di chiudere questo anno, provando di fare massimo di nostre possibilità. Ministro, lei ha trovato, strada facendo, una certa debolezza anche mentale nel gruppo forse dovuta anche, se c'è stata, alla crisi dei risultati. Cioè il gruppo ha faticato un po' secondo lei anche come testa ad avere un rendimento adeguato, magari forse un pochettino demoralizzato in questo senso dai punti che non venivano? Io penso che sicuramente dopo la partita sarei amareggiato dopo le sconfitte, però noi dobbiamo guardare avanti, noi dobbiamo pensare prima delle partite, dove possiamo migliorare, come possiamo preparare, quale atteggiamento deve essere e con quale spirito entriamo. E così dobbiamo prepararci ogni partita, anche se giochiamo contro versari in questo momento più forti. Noi abbiamo fatto 4-5 partite, una dietro l'altra, contro versari che lottano per vincere Scudetto. La nostra lotta è per rimanere in Serie A e questo è il nostro Champions League e noi dobbiamo giocare bene le nostre partite contro i nostri avversari diretti. Ecco mister, l'appoggio dei tifosi non è mai mancato, a volte però chiedono di più alla squadra. Lei che vive tutti i giorni i giocatori, è un discorso anche di grinta, è un discorso magari fisico oppure è il tipo di impostazione o come ha detto adesso si sono demoralizzati semplicemente per i risultati. Comunque, se tu giochi contro squadre più forti di te, dove noi possiamo mettere loro in difficoltà? A livello individuale cercare di dare molto di più, di metterci sul piano fisico qualche volta. Secondo me un po' di questo ci manca. La squadra deve essere un po' più aggressiva, soprattutto in duelli individuali. E questo ci aiuta, ci aiuta in campo di stare meglio quando vinci un paio di duelli, comunque vinci un paio di contrasti, vinci più paloni e poi prendi un po' più coraggio. Quando lei è arrivato al Genoa purtroppo non aveva disposizione destro, lo ha ritrovato nel derby e comunque in queste ultime tre partite con tutte le difficoltà, però avete anche ritrovato almeno un gol a partita. Immagino che non sia un caso perché adesso effettivamente al di là se segna lui o meno aumenta il vostro potenziale offensivo. Le chiedo come sta dopo questi sforzi di queste prime partite ravvicinate che ha fatto e quanto è importante lui in questo momento per il Genoa? No, giustamente lui ha faticato un po', però penso che recupera per domani. La sua condizione, spero che sta crescendo e certo che lui è importante. Lui è un giocatore intelligente, sa muovere in aria molto bene. Anche per esempio partita contro Lazio lui ha avuto due o tre si è ammesso molto bene. Se cross erano un po' più precisi, lui aveva un buon posizionamento in aria. Mister, a livello di infortunati, sia per domani, sia poi quando riprenderete dopo la pausa di Natale, lei ha già qualche previsione da fare? Qualcuno è più avanti, qualcuno è più indietro? Grazie. Sono infortunati? Sì, esatto. In questo momento io penso che il dottore si sta valutando, comunque io non voglio andare oltre di quello perché giustamente i tempi devono essere decisi da dottore e lui darà indicazioni di quale giocatore quando si recupera. Io spero di recuperare qualcuno, ma spero anche di non perdere. Per esempio dobbiamo valutare oggi situazioni di Cambiasso e Zinio. Speriamo che noi non perdiamo questi giocatori perché dobbiamo valutare oggi in allenamento. Grazie.